Bentrovati a tutti, pensavo di recitare oggi con voi una preghiera di guarigione e di liberazione anche per l'intercessione di San Michele Arcangelo, di San Benedetto e di Maria Santissima perché intercedano per noi presso il Signore e possiamo vivere la nostra chiamata alla santità, la chiamata battesimale, nelle nostre vocazioni particolari, accettando la realtà e non sfuggendola e percependo che nella nostra vita se offriamo le nostre croci ma anche le nostre bellezze all'unica croce che è diventata Pasqua, la sua, allora sperimenteremo anche noi la bellezza della risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti preghiamo Signore, guarisci le nostre infermità, guarisci le nostre ferite, aiutaci a sperimentare nella nostra vita la bellezza di un Dio che non ci abbandona nel viaggio bello e appassionante, anche se carico di croci e di fatiche, dell'esistenza quotidiana. Guarisci tutti i nostri momenti di smarrimento e aiutaci ad essere consapevoli che solo legandoci a te potremo sperimentare la grandezza di una presenza, la tua, che giorno dopo giorno cambia il nostro cuore. Liberaci dai mali, sia fisici che spirituali. Liberaci dall'orgoglio che non ci permette di vedere la tua presenza nel fratello e nella sorella che ci stanno accanto. liberaci dal giudizio e dal pregiudizio che ci fanno sentire sempre un gradino sopra gli altri e facci sperimentare la grazia di una consapevolezza che ci permette di sentirci davvero figli. Liberaci da quel peccato che non ci permette di vedere e sperimentare il tuo perdono, un perdono che si manifesta nella tua presenza nella nostra vita, una presenza costante che cambia al nostro cuore. Facci la grazia di sentirci perdonati da te perché possiamo perdonare noi stessi le nostre vite, le nostre mancanze e possiamo mettere da parte il progetto che noi abbiamo pensato per permettere a te di operare la grazia di un progetto che invece tu hai pensato per noi e solo per noi fin dall'eternità. Donaci la grazia dal perdono perché possiamo perdonare la realtà che non sempre va come vorremmo noi e ci permette così di accettare ciò che viene nella nostra vita come un dono gratuito di cui dire grazie e di cui ci possiamo stupire. Donaci questo perdono perché possiamo perdonare le persone che abbiamo accanto consapevoli che non siamo noi i giudici della vita e della realtà degli altri. Donaci di avere uno sguardo compassionevole verso chi abbiamo accanto per essere aiuto e sostegno e non giudici di chi abbiamo accanto. Ti preghiamo Signore libera e guarisci la nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen e chiediamo la benedizione di Dio su ognuno di noi su tutte le persone che soffrono nel corpo e nello spirito. Chiediamo che Dio benedica il mondo intero. Il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen benediciamo il Signore rendiamo grazie a Dio e vi aspetto ogni sera alle ore 20 su questo canale con la decina del rosario insieme per le nostre intenzioni di preghiera. Vi auguro una felice e una santa vita.